la solitudine, Laura Pausini su Radio DJ, la solitudine tu non la puoi soffrire no, ormai perché dovunque vai c'è intorno a mille persone, anche qui davanti stamattina c'è un sacco di gente ho visto, quando sono arrivata la gente carinissima che mi aspettava, dopo mi fermo tra l'altro sì, c'è uno giù vestito come se fosse Freddie Mercury e come mai? e non lo so, come? vestito da re, il mantello e la corona, il mantello rosso ma bisogna indagare, come mai è venuto vestito da re? non lo so perché poi ci sono quelle robe lì che magari tipo è le iene non lo so, oddio cosa mi dovranno portare, magari mi danno il tapiro ma esatto, non so, perché ho sempre detto che mi piacerebbe avere il tapiro e una volta e non ce l'hai? no, ce l'ho in realtà chiamo Stoffelli aspetta, in realtà ce l'ho perché quando ho vinto i Grammy dissi che premio ti manca io dissi il tapiro e quando lo atterrai in Italia me lo vennero a portare e quindi alla fine, bene dai, vabbè allora tanti auguri a te no, no, quel compleanno è la prima intervista non mi fa vedere oh che bello nera io eh è un po' nera ma perché hai lo smalto nero? no, no, no me lo faccio bianco e mi metto la fede no, no, no da sempre abbiamo pensato che volevamo la fede nera che è stata anche un po' difficile trovare e niente ci siamo guarda che si emoziona guarda che si intererisce c'è il nome dietro? no, no, no è una fede molto easy che abbiamo comprato su internet perché noi non abbiamo detto a nessuno che ci sposavamo solamente mia sorella e Nicole la mia assistente lo sapevano ok e quindi per organizzarlo che nessuno sapesse nessun parente, nessun amico, nessun collaboratore non è stato molto semplice cioè ci lavoriamo da agosto dello scorso anno e poi c'è sempre quella roba lì delle pubblicazioni esatto, io non ho capito ma voi sapete perché esattamente bisogna continuare a fare le pubblicazioni? perché se quella famosa frase se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire ma ragazzi ma nel 2000 cioè questa è una legge probabilmente quando c'era il re e poi è successo che uno si sia alzato e ha detto io non sono d'accordo no, questo matrimonio non sa da fare è bellissimo perché nelle pubblicazioni c'è scritta questa cosa c'è una frase esattamente, non mi ricordo le parole però c'è scritto qualcuno è contra no ma come fanno a saperlo? perché l'hanno scritto il giorno delle pubblicazioni il no, magari il giorno dopo c'era qualcuno contrario a Solarolo questa cosa era già fissa io sono residente nel comune di Castel Bolognese quindi sì, non ci sono le affissioni ma qualcuno se ne è accorto che era il tuo fanno in comune ma che una settimana ormai si fa solo via web figuriamo quindi dopo una settimana che abbiamo fatto le pubblicazioni se ne sono accorti a Roma perché Paolo è residente a Roma ah ok ok però alla festa di matrimonio quelli che sono venuti erano ignari erano ignari perché l'abbiamo fatta una settimana prima delle pubblicazioni la festa noi e quindi sono venuti tutti con l'idea con l'idea di venire a fare la festa del mio anniversario le avevo detto che era una cena molto easy a un certo punto mi chiedevano come ci dobbiamo vestire ma io mi vesto come a Sanremo ah che carino allora dai anche noi sono arrivati invece totale in persone? quanti erano? 60 60 persone piccola 55 del marito esatto famiglia numerosa e 5 bravolini di casa pausini no eravamo veramente pochi intimi noi volevamo fare una cosa molto privata molto insomma tra di noi senti perché ci si sposa dopo 18 anni? principalmente per nostra figlia che ci ha chiesto negli ultimi 10 anni cioè da quando è nata che ci chiede perché non siamo sposati io avevo fatto anche una canzone che si chiamava il nostro amore quotidiano anni fa dove la canzone finiva con una frase diceva una promessa non è un documento e per amarci non ci servirà io sinceramente non è che avevo la necessità di mettere una firma in un documento so bene che cosa provo e che cosa abbiamo costruito e vogliamo costruire però ci sono tante cose burocratiche come sapete hanno bisogno di essere legalizzate la maternità o la paternità è sempre una buona spinta per sposarsi ma guarda il fatto di averlo desiderato organizzare come una sorpresa è stata la cosa più bella perché dovevate vedere le facce perché quando sono entrati nella cena io ero vestita veramente da Sanremo e poi sono andata in bagno e mi sono cambiata e sono rientrata in una tenda e tutte le persone abbiamo fatto una playlist col telefono che abbiamo messo nelle nostre casse che abbiamo portato da casa ah che bello se tira Sanremo vuol dire come nel primo Sanremo quindi con quella giacca blu sì con i bottoni d'oro che hai conservato sì ma è quella lì originale è originale mio babbo l'ha conservato perché mio babbo mi ha regalato mio babbo e mia mamma mi hanno regalato la loro casa dove ho vissuto con loro fino a 18 anni che è diventata il mio fan club e che quest'anno stiamo aspettando di sapere quando però diventa il museo no museo no dai sei giovane cosa ci metti nel museo era già un museo in realtà perché mio babbo aveva messo dal 93 i manichini con la giacca di Sanremo della prima sera della seconda sera e nel tempo abbiamo messo tutti i premi e non so anche i regali che mi fanno i fan il tapiro di cui abbiamo parlato prima ok 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 io voglio sapere invece nomi se si può professioni attitudini dei principali amici che hai convocato cioè ma quelli di vecchia data però per cosa? per il matrimonio i nomi e cognomi le mie compagne di classe sì che ci sono anche nel film secondo me sì sì sono anche loro le synchronette ci chiamiamo perché ci illudiamo di fare d'estate di fare appunto un uoto sincronizzato ma in realtà facciamo delle chiacchiere sono quelle le sincronizzate poi c'erano i solarolos che sono i miei due amici maschi Andrea e Franco poi c'era Biagio e c'era la Cortellesi che sono i miei due miei migliori amici lo sapevo di questo e con Paola da quando stai a Roma evidentemente sei diventata molto amica poi hai fatto il programma sì ma lo sapete come è nata l'amicizia perché sono io che l'ho stalkerata non so se lo sapete no io praticamente quando ho partorito la mia Paolina in ospedale mia sorella mi ha portato un giornale dove c'era scritto che la Cortellesi aveva partorito una figlia chiamandola Laura e io l'avevo appena chiamata Paola la mia quindi c'è la simmetria chiamiamola dobbiamo trovare il numero quindi ho chiamato Giorgia la cantante che è un'amica in comune e gli ho detto hai il numero della Cortellesi che la voglio stalkerare mi ha passato il numero e da lì gli ho detto guarda abbiamo chiamato le figlie con i nostri nomi senza neanche conoscerci dobbiamo farle incontrare e dopo un mese che sono nate ci siamo incontrati a casa sua quindi hanno la stessa età e si conoscono sì sì vanno a scuola insieme ah figurati che bello tua figlia ha imparato a recitare e sua figlia ha imparato a cantare ma sono tutti due brave a cantare recitare per ora non lo so devi dirlo cuora io la chiamo così la Cortellesi perché cuora? perché quando facevamo Laura e Paola ogni volta che la vedevo le cantavo campioni del cuora e da lì è venuto fuori questa cosa che attitudini ha Paola secondo te? adesso a dieci anni si comincia un po' a capire sì Paola figlia Paola figlia Paola figlia è molto portata per tutte le cose artistiche e che diciamo la fantasia è assolutamente una delle sue diciamo non so peculiarità e canta balla disegna scrive storie mi pare di aver capito io ho visto appunto l'anno scorso il film così ho visto che il babbo ti ha molto indirizzato sì 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 ok tu faresti lo stesso con Paola ma mio babbo mi ha indirizzato dopo che io ho chiesto hai manifestato quella voglia esatto io il giorno del mio ottavo compleanno sono andata a mangiare alla pizzeria Napoleone di Bologna dove mio babbo faceva piano bar questa pizzeria non c'è più purtroppo e quella sera lui al microfono dice allora stasera il compleanno di mia figlia Laura che compie otto anni Laura lui mi aveva preparato una bambola evidentemente io gli ho detto io non la voglio la bambola io voglio il microfono e da quella sera lì dopo siamo tornati a casa il giorno dopo mi ha detto ma veramente ti piacerebbe cantare vuoi che ti preparo delle canzoni delle basi e da lì abbiamo cominciato quali erano le prime canzoni beh la prima che ho cantato quella sera ho cantato una canzone ho fatto Dolce Remi avevo otto anni avevo otto anni dopo lui mi ha insegnato subito We Are The World in un disco c'è furia? può essere che in un disco c'è un pezzo di audio tuo? ah no no non è furia è Ramayana Ramayana perché lui mi registrava in casa quando ero ma lì avevo tipo tre anni ecco Patrick Simone è vecchia però mi chiasava tantissimo quella canzone poi un'altra delle mie preferite di allora era quella di Casey and the Sunshine Band che diciamo che era un pochino il tavara già al fine sì sì io sono sempre stata molto contadina ragazzi ma è inutile che uno si mette giù vestito bello chic Laura Pausini su Radio DJ che ha scritto questa canzone lo sappiamo già ma te lo facciamo raccontare Riccardo Zanotti gli ho fatto cambiare una parte di testo perché volevo adattarla a me e vi devo dire che non è semplicissimo quando un personaggio famoso ovviamente anche autore scrive una canzone e poi magari la dà a qualcuno e questo qualcuno gli chiede di cambiare il significato ma glielo chiede la Pausini ma glielo chiede la Pausini no ma mi è successo con altri personaggi famosi che mi hanno detto di no eh sì non li posso dire perché è maleducazione no 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 persino noi non te lo chiederei esatto grazie però Riccardo è stato molto carino anche perché io adesso a parte cosa c'era che non ti piaceva no no non è che non mi piaceva era una storia la storia d'amore è finita tra due persone ok mentre io desideravo ritornare con una canzone che parlava di quello che davvero mi è successo ora è arrivato cioè questo è un momento bomba per me è un momento di grande felicità però durante il covid nonostante quella roba immensa dell'Oscar il Golden Globe forse anche per quello con tutta l'Italia chiusa mi sentivo molto confusa molto a disagio anche che a me succedevano quelle cose e tornavo a casa e c'era tutto questo stesso di colpa sì mi sentivo così e poi sentivo che i grandi capi della mia casa discografica di allora che per fortuna sono cambiati non non credevano più in me mi dicevano adesso bisogna che fai dei duetti con delle persone molto giovani perché sai ormai sei donna senti erano grandi capi internazionali anche italiano anche l'italiano sì c'è la lista di fianco al frigorifero con i nomi adesso l'ho tolta le foto con le frecce non so come mai ma dopo cinque anni che speravo sono andati via i tre che volevo io insomma sono andati via buona vita a loro buon inizio a loro però non con me io non ce l'ho fatta cioè non sono così forte come tanti pensano perché mi vedete spesso sul palco io sul palco non ho mai paura quindi là so passa ma a casa non mi sento così sicura di me e quando la vita di un artista ha sempre un che di precario assolutamente non lo sai mai specialmente un artista del mondo della musica perché uno che fa il pittore uno che fa lo scrittore mi sembra sempre un po' più lineare la musica anche loro cioè alcuni di loro hai visto che hanno avuto le vere carriere le hanno avute addirittura quando erano ah sì sì vengono riscoperti la loro vita certo però è vero però è il pop che è così un po' effimero è vero effimero a un certo punto diventa un cliché hai paura di rimanerne prigioniero e le persone intelligenti ovviamente si mettono in discussione diciamo che io la cosa che non so mi sono chiesta tante volte come faccio a accontentare le richieste di tutti i paesi perché ogni paese ha delle loro ognuno vuole ognuno vuole una pausini diversa di base gli stranieri vogliono quasi tutti la pausini classica italiana quindi appena faccio una canzone più pop vado a mettere un arrangiamento più internazionale loro sono colpiti sì perché dicono ma noi amiamo te perché vogliamo sentire l'Italia e sì perché sei rassicurante per loro però l'Italia bisogna anche vedere che l'Italia si aspettano perché io comunque ho la mia personalità che può piacere o non piacere e non si può fare un disco che esce solo in Italia e non esce lì no a me non mi va perché è troppo marketing io se scrivo un disco lo scrivo perché ho bisogno di scrivere per la rapa lì è come se il migliore chef italiano il migliore dei migliori non facesse gli spaghetti allora no ma è vero è così ma tu sei italiano devi fare gli spaghetti però se uno voglia di fare un'altra cosa esatto però l'americano che viene a Modena e va a mangiare da bottura gli spaghetti col pomodoro non li trova però se è diventato bottura è perché ha una firma data dal suo talento che l'ha portato ad essere chi è ci sono tanti pensieri che a volte mi faccio perché non voglio entrare troppo in queste logiche chiaro io spesso cerco di ricordarmi cosa facevo all'inizio quando non conoscevo cosa si faceva in un'intervista chiaro tante volte le opere prime poi sono quelle che alla fine sono più candide la parte più ingenua e innocente che deve essere ancora presente nel momento in cui fai ti concentri nella parte artistica perché non si può studiare quella parte lì se no è troppo troppo finto io non sono così neanche di carattere tra l'altro non sono molto studiata quando vedo i miei amici come sono state quelle 30 ore in giro per il mondo una figata cioè mi sentivo un po' Linus a un certo punto sai perché devi programmare tutto perché lui si prepara si allena da sempre sempre no io non è che sono così brava da quel punto di vista però quando ho deciso l'anno scorso di fare volevo fare il trentennale solo in un giorno perché non mi piaceva l'idea di fare un anno di festa di trentennale mi sembrava una cosa un po' e volevo che a mezzanotte del 27 febbraio giorno in cui ho vinto Sanremo finisse tutto e cominciasse qualcosa di nuovo un nuovo cammino allora mi è venuta in mente la prima idea che ho avuto sai qual è stata volevo prendere un furgone tipo quelli con cui andavo a chiarovar con mio babbo che però magari nel frattempo in trent'anni hanno inventato uno che se apre diventa un palcoscenico cioè tutto nella mia testa e volevo partire dal sud dell'Italia e arrivare al nord andando in trenta case di trenta fan iscritti al fan club senza avvisarli suonare il campanello aprire il furgone perché non hai fatto perché non esiste il furgone ma soprattutto ma soprattutto perché sapete che questa è una roba assurda disturbo no non sarei riuscita a farlo in ventiquattro ore e invece sono riuscita a fare New York sì 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 certo gli aerei vanno più forte che le macchine evidentemente e anche perché fermarmi e fare trenta canzoni a una alla mia tappa era un pochino fatidoso arrivavo a un giorno e quasi due giorni trenta canzoni proprio no no ma volevo farne trenta però questa è la faccia di quelli che aprivano di notte no infatti ma prima o poi guarda io voglio fare purtroppo la viandetta eh ma è lo stesso perché per i sessanta non copiate ma altri cantanti che delle volte ho detto delle cose che le avete copiato volevo dire quello per i prossimi trenta senti in sessanta facciamo il tour degli ospisti ragazzi non hai capito ma va fai come l'Orietta Berti che è ancora in pista è vero ma ci sono grandi nomi a me piace molto una cosa la dicevamo prima fuori onda che Marco se n'è andato e non ne ne ho notato da più e adesso Laura Pausidi fa il primo concerto in piazza San Marco perché Marco l'hanno fatto santo è diventato santo santificato sai quella musica dovrei iniziare il concerto con quelle musiche esatto oh angeli del cielo senti Laura ti faccio una domanda che ti dimostra la nostra totale amicizia la chiacchierata di questa mattina è il recupero di una chiacchierata che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi che avrebbe avuto molto 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 più spazio oggi siamo un po' compressi perché abbiamo anche gli amici del Dinamo Camp ti faccio scegliere bravissimi ti faccio scegliere abbiamo ancora quattro minuti o è che mettiamo una canzone e poi ci salutiamo o chiacchieriamo ancora per quattro minuti bravo no non vengo mai scusa e che cazzo le canzoni le mettiamo ragazzi è uscita la canzone della pausina si chiama un buon inizio andatela a sentire di che è quella torta che ti è arrivata adesso di Enni Massola che è una grande amica mia ma tutto morbidoso qua ve lo lascio a voi verrà sbranata adesso dai critters appena finiamo l'intervista ma te Nicola non fai ginnastica così io sì purtroppo non si vede molto ma non fa no perché quando ti ho toccato ho sentito un muscolo complimenti e la mia giornata è apposta no io vi dicevo prima a pausina mi ha fatto un complimento io mi slaccio canotta addirittura sì sì cioè qua non voglio mica vedere del pelo attenzione ascolta comunque vi dicevo prima che mi sono preparata ho chiamato l'allenatore la nutrizionista e il foniatra sei mesi prima di fare la 24 ore in giro c'è come una maratona proprio sì mi hanno fatto un programma non per dimagrire ma per essere resistente sul palco 24 ore soprattutto perché sapete molto bene che noi cantanti dopo che finiamo il concerto non è che andiamo a letto subito perché abbiamo adrenalina gogo come l'hai gestita questa cosa? allora non potevo prendere una pillola per dormire perché quando le prendo mi sveglio sono rincoglionitissima è vero certo quindi ho cercato di dormire ma ho dormito 4 ore 5 ore probabilmente in aereo in aereo tra New York e Madrid tu sei partita cantando a New York sì io sono partita 2-3 giorni prima della data così ho cercato adesso ho dormito il fuso un pochino sì anche se non lo volevo troppo prendere perché poi facevo tutto in Europa e il resto a New York dove hai suonato? al teatro Apollo all'Apollo all'Apollo Theater a Harlem sì sì fighissimo fighissimo meravigliissimo c'erano tutte le stelle fuori con James Brown Michael Jackson quante canzoni hai fatto? ho fatto a New York la prima decade quindi 10 canzoni a New York della prima decade a Madrid 10 canzoni della seconda decade a Milano 10 canzoni della terza Milano è al Carcano giusto? sì esatto è al Carcano e abbiamo alla fine se le metti tutte insieme ho fatto 30 anni in 24 ore che bello qual è stato il più faticoso dei tre? l'ultimo? no no l'ultimo era quando sono arrivata a Milano ho detto ce l'ho fatta adesso non posso 10 canzoni un'ora dai ce la faccio è stato il primo avevo perché avevo paura era anche il mio primo concerto dopo la pandemia quindi l'ultimo l'avevo fatto con Biagio nel 2019 caspita quindi avevo paura che siccome mi agito e mi gaso quando vedo il pubblico mi va via la saliva esagero a volte esagero spingo troppo e questo mi fa andare via la voce come è suonare e cantare alla Polo Theater? è una cosa non so si respira un po' la magia sì sì anche perché tutte le persone che sono lì ti dicono continuamente pay attention non puoi toccare niente perché ci sono cose storiche i meli è praticamente un museo tipo il teatro se ti viaggi hai viaggiato in tutto il mondo così ti è capitato di essere così tanto all'estero per esempio in un paese in cui si parla in spagnolo da sognare in spagnolo io stavo dicendo io sigo allora spesso continua a pensare in spagnolo come Malgioglio ah sì certo io Malgioglio è una cosa sola tra l'altro ho visto stamattina che mi hanno dato un messaggio io sbaglio ogni tanto sbaglio l'italiano per un semplice motivo perché pensi in spagnolo adoro io lo amo troppo veramente perché in spagnolo il suo novio il mio novio secondo me adesso Laura è fantastica Laura senti prima che recine poi ci scotendi devo ricordare vivo nel terrore da mezz'ora devo ricordare la partenza del tour che ha un pre in piazza San Marco che sono sei date a Cavallo tra giugno e luglio sì perché il mio primo tour nel 93 era nelle piazze ah che bello c'è un perché allora le 24 ore l'ho fatta nel teatro perché ho iniziato al teatro Ariston di Sanremo il primo tour che feci allora era nelle piazze quindi l'anteprima del tour la facciamo a Venezia e Siviglia in piazza poi dopo ho fatto per anni Palasport quindi ieri abbiamo annunciato che la luna di miele visto che come vedete non sono col marito ma sono qua la facciamo in tour inizio dall'Italia l'8 dicembre sei a Rimini e fai la data zero praticamente e poi partono tutte le altre tappe se volete mi dico anche dove Roma Roma Mantova Firenze ma tanto le trovate sul sito Bologna Torino Bolzano Milano non è che un segreto e poi fai anche l'estero l'estero si dice l'estero e le direi un po' alla Romagnola stiamo in giro un bel po' e non vedo l'ora perché è la cosa che mi è mancata di più e poi sto preparando una cosa molto figa con Fabio Novembre ah e stiamo facendo per i live si si per i live e quant'altro si si proprio abbiamo proprio l'architettura diciamo abbiamo studiato una cosa stiamo lavorando in questo periodo c'è della fighetteria diciamo ragazzi bisogna inventarsi delle cose perché sennò a parte io mi annoio e poi dopo così tanti anni se non ti viene un po' di caghetta giusto sai già tutto torna sta caghetta cioè sto a casa mia invece bisogna farsi stimolare da chi ha delle idee giusto se non si fosse capito era Laura Pausini su Radio DJ grazie grazie a voi ragazzi ciao ciao dj 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 drama italia grazie a voi grazie a voi